Partiamo dall'Ariete. Inizio settimana di progetti interessanti. Basterà valutare con calma e fare il punto della situazione prima di passare all'azione. Il successo è a portata di mano. L'amore non oggi. Toro, il rapporto con gli altri in questo periodo non è dei più semplici. Approfittate delle stelle di oggi per chiarire dei malintesi, soprattutto in ambito lavorativo. Avete bisogno di tempo. Consiglio, sognate ancora. Vi farà bene. Gemelli, finalmente c'è chi vi sostiene e vi spinge tra le braccia delle novità che tanto desiderate. Avrete la grinta giusta per tutto. Trovate le parole giuste da dire al vostro partner. Cancro, le stelle vi amano. Un problema lavorativo sembra trovare una risoluzione inaspettata. Ci vorrà ancora del tempo, però è un po' di pazienza. Il rapporto con la persona del cuore, invece, va molto bene. Leone, notizie positive in arrivo. In campo professionale potreste ricevere una gratificazione importante. In amore avrete conferme sorprese. Splenderete sempre e comunque, nonostante qualcuno sembra spingervi in modo più o meno chiaro a fare il contrario. Vergine, le stelle di oggi vi invitano a cambiare punto di vista. Provate ad osservare ciò che vi accade da un'altra prospettiva. Non lasciatevi confondere, ma cercate il buono di ogni cosa. Bilancia, il cielo di oggi vi rende distratto, vi rende stanchi. Prendete, se possibile, un po' di tempo solo per voi. Ricaricatevi di energie e rilassatevi, se potete. L'amore, invece, aspetta soltanto delle novità. Scorpione, cercate di dedicarvi a qualcosa che vi piace o, ancora meglio, passate del tempo con una persona che vi faccia stare bene. Avete un dubbio? Non aspettate ancora. Parlate, chiarite. Sagittario, l'insoddisfazione in ambito lavorativo si fa pressante, oggi più che mai. Per questo è giunto il momento di cercare un'alternativa o comunque di rivedere la vostra posizione in merito, ma non allarmatevi. Capricorno, non fermatevi alle apparenze. Le stelle di oggi vi invitano ad andare nella profondità delle cose, ad osservare con attenzione i propri pensieri e i propri intenti. Divertitevi. Acquario, non cedete alle provocazioni. La diplomazia pagherà di più di qualsiasi atteggiamento avventato. Le stelle vi invitano a rivedere un progetto. Per quanto riguarda l'amore, per una volta lasciatevi prendere. Pesci, giornata da vivere con leggerezza. Qualche difficoltà vi farà sentire tutta la pesantezza dei pensieri che vi affliggono. Non irrigiditevi, lasciate fluire il tutto. L'amore invece aspetta che facciate il primo passo.